signori cos'è cos'è fai così ok signori allora stanno venendo a prendermi ok io io non so se qui sono al sicuro ma credo che sappiano dove mi trovo e loro hanno il teletrasporto hanno il teletrasporto e io no io non ho il teletrasporto e oddio è già arrivato signori io chiedo scusa per le intro di merda che faccio ma c'è tanta noia e buona visione ciao ragazzi io sono Lele e benvenuti oppure bentornati oppure ho caldo fatemi cambiare credo che così vada molto meglio ho fatto un rumore bruttissimo dunque ragazzi oggi di cosa parlerò credo che l'abbiate visto dal titolo insomma complicazioni questo titolo molto misterioso che potrebbe far nascere qualche domanda dentro di voi oppure oppure no oppure sì oppure non lo so insomma perché complicazioni l'ultimo video ovvero dalla fine all'inizio vi è piaciuto cioè nel senso grazie vi voglio tanto bene ma non stiamo parlando di quello nell'ultimo video avevo detto che appunto dopo quel video dal video dopo avrei cominciato a parlare da questo periodo più o meno andando a scalare di varie mie esperienze fino ad arrivare all'inizio che non è la mia nascita ovviamente ma è un momento preciso nel tempo che appunto poi scoprirete ho caricato il video stava andando tutto bene poi un paio di giorni dopo ho pensato no no perché no perché no perché questo periodo alla fine ancora non è finito il periodo adolescenziale non è finito io devo ancora maturare devo fare ancora tante esperienze e devo vedere con un occhio più maturo quello che ho passato perché magari adesso la penso in una maniera però tra qualche anno potrei vederla in una maniera totalmente diversa ecco deve ancora finire questo periodo insomma quindi non è ancora la fine quindi riflettendoci questo format dalla fine all'inizio tra virgolette format lo terrò per un futuro che non so quando avverrà ovviamente però lo voglio tenerli da parte ancora nel mentre ovviamente usciranno dei video anche perché ci si annoia e capito quindi non parlerò di mie esperienze specifiche ma più di come la penso riguardo a come la penso riguardo a quest'altro ti piace esplodere oppure no insomma tutte queste cose che comunque fanno parte di questo canale insomma quindi questo video informativo è semplicemente per dirvi che ancora ho tanto da imparare come chiunque insomma alla fine non si smette mai di imparare però il periodo adolescenziale è comunque un periodo complicato un periodo complesso molto che poi complesso e complicato sono la stessa cosa però comunque è un periodo particolare oserei dire di conseguenza quando verrà il momento vi racconterò tutto ma non è questo il giorno non è questa l'ora non è questo il minuto non è questo il secondo non è questo l'anno oserei dire dovrà ancora passare un po' di tempo e soltanto i veterani si ricorderanno di queste mie parole parola parola al prossimo video